a tutti e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi volevo trattare insieme a voi il tema della verginità perpetua di Maria. I testimoni di Geo e i protestanti, come sapete, contestano la perpetua verginità di Maria. Loro dicono che Maria non fu sempre vergine, che generò altri figli e figlie, mediante regolari rapporti con Giuseppe. Quindi loro dicono che dopo la nascita di Gesù, Maria ha avuto altri figli. Perché dicono questo? Perché credono questo? Perché nella Bibbia si parla dei fratelli di Gesù e loro credono che questi fratelli di Gesù siano figli di Maria. Ma non è così, ci tengo a specificarlo da subito. I fratelli di Gesù non sono figli di Maria. Nella Bibbia si parla di fratelli di Gesù, ma non di figli di Maria. Fate attenzione a questo. Si parla di fratelli di Gesù. Non si dice da nessuna parte che questi fratelli di Gesù siano figli di Maria. Maria è sempre solo chiamata madre di Gesù e non di altri. Nella Bibbia vengono menzionati anche i nomi dei fratelli di Gesù, che sono Giacomo, Giuseppe o Ioses, Giuda, che non è il traditore, e Simone. Ecco, le scritture ci dicono anche di chi sono figli. Quindi seguite questo video, perché non sono figli di Maria. Prima di trattare l'argomento dei fratelli di Gesù, volevo analizzare insieme a voi un altro passo biblico che i protestanti e testimoni di Geova prendono e sfruttano per negare la verginità perpetua di Maria. Ed è Matteo capitolo 1, versetto 25. Con questo passo i non cattolici vogliono dimostrare che Maria ha avuto rapporti con Giuseppe dopo la nascita di Gesù. Leggiamo il versetto 24 e 25. Quando Giuseppe si svegliò, fece come l'angelo di Dio gli aveva ordinato. Prese Maria come sua sposa, con la quale non ebbe nessun rapporto matrimoniale fino a quando partorì il bambino, e Giuseppe gli mise nome Gesù. Perciò Giuseppe non la conobbe a Maria finché non partorì il bambino. Quindi loro dicono non la conobbe finché non partorì. Questo vuol dire che dopo Giuseppe ha avuto rapporti con Maria. Ma questo vuol dire che dopo Giuseppe ha avuto rapporti con Maria lo aggiungono loro, perché Matteo questo non lo dice. Matteo non ci parla del dopo. Se dopo la nascita di Gesù ci sono stati rapporti tra Maria e Giuseppe. Questo lui non lo dice. Quindi, a parere dei testimoni di Giove e di altri non cattolici, da queste parole di Matteo seguirebbe che Gesù avrebbe avuto rapporti coniugali con Maria dopo la nascita di Gesù, dando vita ad un numero imprecisato di figli e figlie. L'espressione fino a quando non la conobbe finché non vuol dire che dopo la nascita di Gesù ci furono relazioni tra Maria e Giuseppe. Matteo vuole affermare semplicemente, chiaramente, che Gesù fu concepito per opera dello Spirito Santo. Lui si concentra su questo. Questo è quello che ci vuol dire, che Gesù fu concepito per opera dello Spirito Santo senza l'intervento di Giuseppe. Infatti il tema che sta trattando Matteo non è quello della perpetua verginità di Maria, ma quello della concezione verginale di Gesù. Quindi lui sottolinea questo, che fino a quando nacque Gesù non ci furono relazioni tra Maria e Giuseppe. Ci fa sapere che Gesù nacque per opera dello Spirito Santo, quindi senza l'intervento di Giuseppe. L'Evangelista ci vuol far sapere che il bambino nascerà da una vergine, avverando la profezia di Isaia, che dice ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio e lo chiameranno Emanuele, che significa Dio con noi. Matteo ci vuol parlare unicamente del concepimento verginale di Gesù e non di altro. Matteo non intende affatto parlarci della vita coniugale tra Maria e Giuseppe dopo la nascita di Gesù. Non è il tema da lui trattato. Ricordiamo il grande studioso della Bibbia San Girolamo che conosceva bene la lingua, lo stile biblico e poteva precisare l'esatto significato dell'espressione dei Vangeli. A proposito di Matteo 1,25, San Girolamo ha così commentato, dal fatto che è detto non la conobbe finché, non ne segue che la conobbe dopo. La scrittura mostra solo ciò che non avvenne. Con San Girolamo concordano i grandi studiosi della Bibbia anche dei giorni nostri. Commentando Matteo 1,25, la Sacra Bibbia di Salvatore Garofalo osserva. Il finché, non la conobbe finché, il finché della Bibbia nega un'azione per il tempo passato, ma non implica che essa sia stata compiuta in seguito. Per esempio nel Salmo 110, versetto 1, Dio invita il Messia alla sua destra finché pone i nemici a sgabbello dei suoi piedi. Ciò non può evidentemente significare che dopo la vittoria il Messia abbandonerà il suo posto. La Tob, ossia traduzione ecumenica della Bibbia francese a proposito di Matteo 1,25, fa notare. Il testo non permette di affermare che Maria abbia avuto in seguito rapporti con Giuseppe. Il testo non permette di affermare questo. La Bibbia di Gerusalemme commenta che il testo non considera il periodo successivo, quindi voler dedurre da questo passo che secondo Matteo, dopo la nascita di Gesù, ci furono relazioni tra Maria e Giuseppe, è una maniera sbagliata di interpretare la Bibbia, facendole dire quello che in realtà la Bibbia non dice. Matteo ci vuol parlare unicamente del concepimento virginale di Gesù. Gesù fu concepito per opera dello Spirito Santo senza l'intervento di Giuseppe. Questo è quello che ci ha voluto dire Matteo. Lui non ci ha voluto parlare della vita coniugale tra Maria e Giuseppe dopo la nascita di Gesù e non ci ha nemmeno voluto parlare della perpetua virginità di Maria. Non sono temi da lui trattati. Quindi, un altro passo, adesso analizziamo un altro passo che prendono i testimoni di Giove protestanti per negare la virginità di Maria, ed è Luca capitolo 2, versetto 7. La Bibbia presenta Gesù come figlio primogenito e i contestatori dicono Gesù è il primogenito, quindi, sempre aggiungono qualcosa. Quindi, vuol dire che dopo ce ne sono stati altri. Questo è il loro ragionamento che fanno, perché dicono altrimenti nella Bibbia ci sarebbe stato scritto unigenito e non primogenito. Ma questo modo di pensare non si accorda con la Bibbia. Infatti c'è molta differenza tra il linguaggio attuale e quello biblico. Per la Bibbia, primo nato o primogenito è lo stesso. Vedete numeri, capitolo 18, versetto 15, per esempio. Per questa categoria di persone, primogeniti, per questa categoria di persone erano previsti dalla legge mosaica riti speciali di culto che bisognava soddisfare subito, indipendentemente dal fatto se uno era figlio unico o primo tra molti. Come prova extrabibblica abbiamo una lapide sepolcrale dove, trovata nell'anno 1922, è scritta in greco, redatata anno 5 prima di Cristo. E dice così, la giovane madre ebrea, Arsenoe, è morta tra i dolori del parto, dando alla luce il suo figlio primogenito. Come si vede, nonostante che questa donna non abbia potuto dare alla luce più figli, comunque il primo ed unico figlio che ebbe è chiamato primogenito e non unigenito. Lo stesso successe nel caso di Gesù. Quindi in un cimitero giudaico è stata trovata una tomba con questa iscrizione. Una madre giudea di nome Arsenoe, dopo aver dato alla luce il suo unico figlio, morì. Ma in questa iscrizione c'è scritto che lei morì dando alla luce il suo primogenito. Quindi dire che Gesù è chiamato primogenito e questo vuol dire che è chiamato così perché poi ci sono stati altri figli, questo non si accorda con il modo di pensare dell'epoca. L'archeologia ci è anche venuta in aiuto per dimostrare questo. I testimoni di Geova, i protestanti, dicono lo stato di verginità perpetua, lo stato di continenza perpetua, era estraneo alla mentalità ebraica. Loro dicono questo. Ma noi rispondiamo che non è affatto vero che al tempo di Maria e di Giuseppe lo stato di perpetua continenza, quale consacrazione a Dio, fosse sconosciuto presso gli ebrei. Sia uomini che donne si votavano a tale stato di castità. Lo attesta lo scrittore giudeo Filone. E lo confermano inequivocabilmente i documenti scoperti in questi ultimi decenni nelle grotte di Qumran, in Palestina. Lo stato di perpetua continenza sarà scelto da Cristo e da Lui consigliato per il regno di Dio. Leggiamo Matteo capitolo 19, versetto 12. Infatti, dice Gesù, vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. San Paolo ed altri discepoli di Cristo, provenienti dal giudaismo, hanno accolto l'invito di Cristo e non si sono sposati per lavorare meglio a tempo pieno per il regno di Dio. I testimoni di Geova e i protestanti ancora domandano ma com'è possibile ammettere che Giuseppe avesse intenzione di sposare Maria e vivere in perpetua continenza? E noi rispondiamo, perché loro non riescono a capire questo, com'è possibile? Noi rispondiamo, è chiaro che l'uomo senza spirito non comprende le cose dello spirito e le giudica assurdità. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 14. Purtroppo questi che non riescono a comprendere rivelano una mentalità naturalistica e materialistica. Non così giudica l'uomo spirituale. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 15. Maria fu sempre vergine, Maria sempre vergine. Non è vero che ha avuto altri figli. La sua verginità è segno di amore totale a Dio. Adesso trattiamo l'argomento dei fratelli di Gesù, cavallo di battaglia per i testimoni di Geova e i protestanti contro la verginità perpetua di Maria. Analizziamo alcune scritture dove si parla dei fratelli di Gesù. Voi potete segnarvi queste scritture perché io ne leggerò soltanto una. Matteo 13, 55-56, Marco 6-3, Luca 8-19-20, Giovanni capitolo 2-12, Atti 1-14, prima lettera ai Corinzi 9-5, Galati 1-19. Tutti questi passi vengono menzionati i fratelli di Gesù. Noi leggeremo adesso Marco capitolo 6, versetto 3. Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Che cosa hanno voluto dire gli autori dei Vangeli con le espressioni fratelli e sorelle? Non figli di Maria. La Bibbia va letta e spiegata secondo le norme indispensabili per la comprensione di un libro scritto in tempi assai lontani, in una lingua diversa dalle lingue moderne, con proprietà sfumatore, modi di dire di tempi passati, in una cultura diversa dalla nostra. Quindi, gli scrittori non vogliono dire con la parola fratelli e sorelle figli di Maria. Non sono figli di Maria. E' un particolare molto significativo che non deve sfuggire il fatto che gli autori ispirati parlano solo e sempre di fratelli di Gesù e mai di figli di Maria. In nessun versetto voi leggerete che i fratelli di Gesù sono figli di Maria. Maria è sempre e solo chiamata madre di Gesù e non di altri. Questo è un particolare che non dovrebbe sfuggire a chi legge i Vangeli come si conviene. Esaminiamo adesso un'altra scrittura. Atti, capitolo 1, versetto 14. L'autore sacro dice che nel Cenacolo, nel Cenacolo, assieme agli Apostoli c'era Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Perciò c'era Maria, madre di Gesù, con i fratelli di lui. Se questi fratelli fossero stati figli di Maria, lo scrittore ispirato avrebbe sicuramente detto meglio. Avrebbe scritto c'era Maria, madre di Gesù, con gli altri suoi figli. Ma non è questo quello che c'è scritto. C'è scritto c'era Maria, madre di Gesù, con i fratelli di lui. La distinzione. Maria, madre di Gesù, con i fratelli di lui. Chi sono i fratelli di Gesù? La Bibbia ci dice i loro nomi. E sono Giacomo, Giuseppe o Ioses, Giuta e Simone. Sia Matteo che Luca hanno avuto l'ispirazione di darci i nomi. Ma di chi erano figli? La risposta è data dagli stessi evangelisti. Matteo ci informa che tra le donne presenti al Calvario c'era una Maria, detta madre di Giacomo e di Giuseppe, i fratelli di Gesù, Giacomo e Giuseppe. Ecco, al Calvario c'era un'altra Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe. Matteo 27, 55 e 56. Leggo dalla Bibbia. Perciò, vi erano anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zefedeo. Vedete, c'è una Maria che è detta madre di Giacomo e di Giuseppe, che non è Maria madre di Gesù. Quindi, Giacomo, Giuseppe, i fratelli di Gesù, sono figli di quest'altra Maria che seguiva Gesù, discepola di Gesù. Nel Vangelo di Marco, capitolo 15, versetto 47, Marco ci dice che questa Maria, madre di Giuseppe, madre di Giacomo, quindi di Giuda, era insieme alla Maddalena e stavano ad osservare dove veniva deposto il corpo del Signore. Quindi, Marco 15, 47. Egli allora, comprato il lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro, scavato nella roccia, poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria, madre di Ioses, Giuseppe, fratello di Gesù, stavano ad osservare dove veniva posto il corpo del Signore e la madre di Giuseppe e di Giacomo, questi cosiddetti fratelli di Gesù. È chiaro che Maria non è la madre di Giacomo e di Giuseppe e questi fratelli di Gesù, ma sono figli di quest'altra Maria che stava sempre insieme alla Maddalena. Matteo chiama la madre di Giacomo e Giuseppe l'altra Maria, quindi non Maria, madre di Gesù, ma la chiama l'altra Maria. E lo leggiamo questo in Matteo, capitolo 27, versetto 61. Perciò Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe, viene chiamata l'altra Maria. Leggo dalla Bibbia. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Quest'altra Maria è la madre di Giacomo e di Giuseppe, i cosiddetti fratelli di Gesù. Possiamo sapere chi era quest'altra Maria, madre di Giacomo e di Giuseppe? Sì. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 19, versetto 25, viene chiarito chi è quest'altra Maria. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, sua madre, la madre di Gesù. Perciò presso la croce stavano Maria, madre di Gesù, la sorella di sua madre, la sorella di Maria, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Abbiamo scoperto che quest'altra Maria, madre di Giacomo e madre di Giuseppe, o Ioses, fratelli di Gesù, è Maria di Cleofa. Viene chiamata Maria, la sorella di lei, perciò sorella di sua madre. Questa è chiamata sorella di Maria. Gli studiosi della Bibbia notano che sembra inverosimile che due sorelle portassero lo stesso nome. Di conseguenza, essi sono del parere che in realtà l'altra Maria, che è chiamata sorella di Maria, in realtà sia parente di Maria e i suoi figli quindi cugini, parenti di Gesù. Perché nella Bibbia la parola fratello, sorella, non indica per forza necessariamente fratello, sorella, carnali, ma può anche significare cugini e parenti. Informatevi su questo. Io vi voglio fare un esempio. Lot, scusate, Abramo, chiama Lot fratello. Dice Abramo a Lot, noi siamo fratelli nella Genesi. Però Lot non è il fratello di Abramo, ma è il nipote di Abramo. Quindi non è perché c'è scritto che sono fratelli, sono necessariamente figli di Maria. No, perché questa parola fratelli può anche avere un altro significato, come cugini, parenti, nipoti, eccetera. Volevo concludere dicendo che Gesù sulla croce ha affidato sua madre a Giovanni e il discepolo l'ha presa con sé nella sua casa. Questo perché? Perché Maria non aveva altri figli. Per questo Gesù l'ha affida a Giovanni. Se Maria avesse avuto altri figli, Gesù l'avrebbe affidata alle cure di questi altri suoi figli, dei suoi fratelli e delle sue sorelle. Ma siccome Maria non aveva figli, quindi Gesù non aveva fratelli e sorelle, non poteva affidare sua madre a loro perché non le aveva e l'ha affidata a Giovanni. Io vi saluto tutti, vi invito a guardare i miei video precedenti e i miei prossimi video.